Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Restore 7.3 Oggi siamo su Catrarchia la sedia Siamo su Ice Che dovrebbe essere un gioco horror Non so molto di questo gioco Magari però se... Ok Non so molto di questo gioco Ma devo abbassare il volume Perché se no... Sì Ok, sono contentissimo Ok, bene Normal Sì Però non... Devo abbassare il volume prima Ok, sono contento anche della sensibilità troppo alta Voglio abbassare il volume Ok Siamo ufficialmente su Ice Con la sensibilità di non si sa cosa Scusatemi eh Devo capire No, non ci sono delle opzioni Non c'è niente Ok Sì, magari... Ok, già questo lag non mi piace però... Ce lo faremo andare bene Ok, allora Oddio quanto cazzo è altra la sensibilità Non ci si muove Ok, però sono obeso Ok Capito Allora Trevisore Quanto cazzo è altra la sensibilità di sto gioco? Qui abbiamo una finestra Ok Siamo ufficialmente partiti Allora... Allora... Sì Push the door to open Vediamo la map Ahah... Bellissimo Detto bellissimo Push the door to... Ah, devo spegnere Ok, qui abbiamo dei vecchietti brutti Questo è stato Hitler Ragazzi ci abbiamo inter in un videogame Mi piace Mi piacciono, mi piacciono Potrei scare... Prima andiamo di qua là No, ho detto di qua Fatto 1.360 Che cazzo è altra la sensibilità di merda Che cazzo è altra la sensibilità di merda Che cazzo è altra la sensibilità di merda? Mi ha detto gioco Ok Ah, ciao Vediamo se ci riesco Ok Ok, possiamo continuare Allora Per avere quei sacchetti No, non devo aprire quei sacchetti Devo prendere quei sacchetti Per avere E avere Un frigo Che non ce l'ho fame E... Per controlli Per avere Dei... Non lo so Arrivo a 20 che dove lo fa? Appena arrivo a 20 non lo so Che non ce l'ho fa Non riuscivate a comprare qualcosa A questo punto Allora Ancora non capisco perché Sia horror Però il fatto della torcia È figo Ok 4 su 20 Ah, stiamo andando bene Solo che sono obeso Che padolento Ok Cazzo, cazzo Che cos'era? Che cos'era? Che cos'era? Porca droia! Ok Adesso voi mi spiegate Cos'era quel coso Ci abbiamo dovuto spiegare Non era proprio la cosa più bella del mondo Allora Qui avevamo detto che La sensibilità È più merda Non serve a niente Qui la tizia fa abbastanza paura Sì, la mappa lo so Come si vede Ok Magari si Rieca di aprire la porta Che bello Cos'è sta porta? Ah, ok Questa ci apro Bene, bene Bene, bene, bene Bene Allora Sì Cos'è? Ok Good Cos'è? Cos'è? Eh? Ah Ok Capito Con quello Dovrei Sto Mi sa che dico una cazzata Vabbè Forse con quello Se ho capito bene Posso Ok Con quello Se ho capito bene Mi sa che posso vedere tipo Dove sta quella tizia Non me via Non me via Non me via Ho anche capito E quando tremano le cose Perché ci hanno paura loro Visto quelle cose che tremano No? Visto che ci hanno paura Mi danno anche un po' di preavviso E dicono Ah cazzo S'arri Ah scappa Se n'è andata Io coglione ho già spiegato il mio occhio L'occhio che avevo preso Ok Dai 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 No 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 Perché tremano le cose Palle Non è bella come cosa Beh Perché faccio sempre bla Guardate che Mi sta piano senza assurda con questo Perché Giochi horror Non ne ho mai giocate Vabbè A parte Gravio Fira Perché quello C'è stato uno spavento piuttosto carino Ok Andiamo 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 Non ho visitato ancora le altre stanze Ma andiamo Ce la sentiamo matta oggi Con sensibilità del corso Ho due occhi Ho due occhi Ho due occhi Ho due occhi Non mi ricordi ci dove stavi Ok Posso Ah posso anche saltare Bene bene Vediamo andossare Non ne so quello là Dove Ok Se non mi sbaglio Dovrebbe essere Dietro di me Quindi noi corriamo Mi dice run E questo lo capisco Guardate quanto è brutta Mi dice run E lo capisco Ho detto però Cioè Sono obeso Sono obeso Sto facendo giro 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 tonno Vistate la trollo Brutta Aiuto Perché è così brutta Corri 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 No però di sopra No no che fai Che fai Che fai Che fai Basta Casual Mi volevo dire casual Trovamo casual Qua sera un po' più facile Ok Allora Siamo partiti per l'ennesima volta Aspetta cosa viene No non si può correre Ragazzi non va bene Per niente Ok vai on Ok Ah ma c'è anche la scala Ma se faccio solo sotto Mi danno Mi danno tipo tanti anni Da sfiga Ah no non mi sposo Tutta la scala Mi ero dimenticato delle Così Del fatto Della scaramanzia Allora prendiamo un sacchetto Cioè Questo gioco Qualcora c'ha una sensibilità assurda Non è possibile Agirarsi questa roba Allora Eeeh Sto qui al tavolo Dai vieni ma Io Ho un vaso Ho un vaso Non ho paura di usarlo Vieni qua no Ti tiro il vaso in testa Ti sfondo Ho pure la torcia Tra un po' mi si spacca Buona l'ultima Andiamo avanti Comunque Lasciamo un altro Sacchetto Ma la cacchola dov'è? Ok ok Ah state sotto state sotto Siamo ranguilli che state sotto Allora Dobbiamo prendere Più sacchetti possibile Ok Ok Facciamo una chiave Non so cosa serve Però Sotto c'era una grata Quindi potrebbe servire Per il di sotto Non lo so Allora qui ci sono Non ci sono stato Nè il trapugliote Ok E il sacchetto Qui c'è stato prima Non c'è stato più Ah Qui c'è Ma la cosa No 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 Di l' uccidere Di l' uccidere Di l'uccidere Di l'uccidere Non ho controllato le altre stanze, idiota che sono Ok, corri, corri, corri E sto di nuovo qua perché ho l'orientamento della bussola rotta Ok, ecco il qua, altri sacchetti, altri sacchetti Ok Ho notato che è la prima volta che guardo la tele Che cazzo fai? Che è la prima volta che guardo la... Oh, morine che ho smesso di registrare No, ok E' la prima volta che guardo la telecamera Non c'è la camera, la webcam Dopo la presentazione vorrei dirlo bene a tutti i ragazzi Allora no, assolutamente Devi capire una cosa Lui da troia dove sei? Ti devo far capire una cosa Cosa c'è? Corri, corri, corri No, 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 no Sono castrato perché non so, ho preso le porte le abbo con 30 anni Ok, entra, 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 magari non ti pia Magari non ti pia Magari non ti pia No, non mi pia Dai che non mi pia Aspetta, devo capire Ok, non, niente Possiamo Possiamo andare Ah, non l'ho vero Sì, ripassiamo sotto la scala Mi un becco davvero 46.000 anni, le sfiga Per quanto pare non c'è più cosa questa scatola Mi hanno mandato un pacco Mi regalo No Run, run, run Oddio quanto sei brutta, cara Non sei proprio la cosa più bella del mondo, lo sai Che sta dietro? Che sta dietro? Che sta dietro se mi piace il frutto Se mi piace sfonda Se mi piace sfonda Se mi piace sfonda Gira, gira, gira Scavalca le serie Mortacci tu qua Quanto sei brutta Oddio quanto sei brutta, cazzo È orribile, ragazza Sono morto per l'ennesima volta Perché Non so manca quanto stavo Non so più accoltà Quanto sei sexy, signore Stavolta optiamo per l'andare di sopra E io vado di sotto Perché, coglione Me la sento Ezio oggi E scavalco le miglie Ok, ho respirato Ho respirato Ciao, bella Sono molto sexy Che l'ho detto Dove sto andando Le sto laggando Ma tu sei sexy, sei sexy Se l'ho detto Sono veramente bella Comunque i denti affilati Potrebbero affilare Potrebbero mozzicare di tutto Ciao vecchietto Beh, buongiorno Lei dovrebbe essere Non so Chi può essere Io da vecchio Magari Un occhio Vediamo dov'è Ah 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 Passa i piani di sotto Però mi sa che lei All'inizio partita Parte direttamente Dai piani di sotto Non vorrei sbagliarmi Allora ho preso un altro occhio Buono Entra nella stanza La chiave La cosa Ho già tutto preso Però l'hai prese prima Perché non ci sanno più Appena si muore Non capisco Qui sta l'ho giù E qua Andiamo sacchietti Due Tre Ma tre sacchetti Tre sacchetti Allora andiamo di sotto Andiamo di sotto No che di sotto Ancora poi Non volevo andare di sotto Perché tipo Se lei sale Sale su 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 Io vado giù 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 E non ci sono sacchetti Un lampadario bellissimo Molto definito Ok Questo gioco Ha la bellezza Ha la bellezza di essere Flashplay Quindi non ho dovuto scaricare niente Ok Già mi si mette in mezzo Ah Esattamente questo Oddio no Volevo anche Scusarmi Per non aver Pubblicato video Questi giorni Perché praticamente Non me li fa pubblicare Mi sono Appena rifatto Internet E internet Mi trolla Praticamente Non me li fa pubblicare Video per ora Non so perché Non so come risolvere Questa cosa Probabilmente Perché è molto lento In questi giorni E quindi Sto cercando di trovare Una soluzione Tranquilli perché Questi video Le pubblicherò Tutti a raffica Insieme Ho fatto uno Di catmario Uno di catmario Uno con questa Grandissima Conce donna E un altro Con Ricordi Misacra trollo E ne ho fatto Anche un altro Con Team fortress Dove Dove Ristare un uomo E vabbè Poi appena lo pubblico Lo vedrete Mi sa che pubblico Prima quello Poi Corri 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 Ah ma io sbatto pure le Le palpe Perché è bello Sono umano Sono umano Vabbè Vabbè Mentre lei Ci trolla Io Vedo per l'ennesima Volta Quanto stiamo Registrando Perché devo Tenere un po' Il conto Non dura Vai 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 Non ci sta Vai che non ci sta Ci abbiamo Hitler No no Hitler dov'è Eccolo qua Bello come sempre Allora stavolta Andiamo di sopra Magari senza Istinti Dezio No no Non farmi cazzate Perché sto con la Cicletta Corri da lo schermo Belli Oh Che cazzo Non farmi Trolling Ok Ok Mi ho preso Oh Non so Vabbè Altri Sacchetti Altri sacchetti Lì c'è un'altra porta Sprangata Giustamente Andiamo 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 Sono A non so quanti Un altro occhio Andiamo Dov'è Ho detto Un altro Dov'è Dov'è Vai di sotto Vai di sotto Vai di sotto Grandissimo La mia soccoletta Questa è una finestra Non ci posso Entrare Quanto Sei sexy Possiamo andare Avanti Allora Dove sono Dove sono Deve Sono appena Uscito C'erano 58 porti Ho preso Giustamente Particulare Mi faceva uscire Ma mi pare Ovvio Allora Sono Entro da qua E entro qua Ora Non trollarmi Non trollarmi Proprio ora È abbastanza difficile Da guidare Questo gioco Non so se si capisce Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Se io adesso Adesso è coscendo Non è che me la ritrovo Tanto È brutta Ragazzi Non ce la faccio mai Con lo peso Non ce la posso fare Con lo peso Che non Corre Premi M Per vedere la mappa Ma bene Lo so Mi servevo 12 pex Perché 12 pex Non ne avevo 20 12 Sicuri eh Vabbè 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 Sono 12 Oddio sono 12 Non eserbolo Buono Buono Buonissimo Due Ah perché mi sa Ho cambiato modalità Allora Buono Buono Prendiamo l'occhio Andiamo 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 Chissà dove sarà Non lo so I don't know Così 5 Stiamo a 5 Oh Buon punto 5 Stiamo un po' 5 Martina Non si registra No Sto Informazione Ok Bene 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 Ehi Signorina Guardi Non sono molto interessato Ho questo Tu Praggi Di Massa Ma Se Sta Di Sotto Vabbè Bene Ok Vai 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 No Non c'è Ehm No Allora Stavo per fare la bella No Dove devo andare Vabbè Intanto ho tirato di sopra Poi Se me la ritrovo davanti Esplodo Esplodo Muoio Siamo a sei la metà Metà Buono una metà mi sento ricco C'è una s... Cos'è? A safe combination sound found Cos'è? Uè? Cos'è? Cosa mi stai facendo signora? Io Un occhio Un occhio Dentro una stampata Sta ancora di sotto Questa si diverte Per me c'è stato tipo un attore porno Cioè si diverte E quando Stavo Stavo a fare tipo un ballo E quando Ha fatto Quando Vedete che io la sto per Vedere Con l'occhio Chi Lo fa andare via Lo fa nascondere Che fa finta di giro La gare Come una piccola signora No Sto ancora nel bagno Esci coglione Eh Oddio Un occhio Ambigo Un occhio E Mostra risa lì Quindi Dovete sapere cosa facciamo? Andiamo verso di qua Ci allontaniamo Allora Lì c'è una gherata Non posso fuggire ovviamente Dalla gherata Perché Sono No coglione Una scala a chiocciola Che mi serve una scala a chiocciola Ok E giuiamo Ok Mi serve sapere dov'è So se mi spugga mo' Non state sopra Oddio no State sopra Che sta venendo anche qui Credo Lo so Spero di no Perché se viene qui Considerando che sto a 10 Io muoio Esplodo Esplero Sto anche laggando Che non va bene Esplodo Ah Deficius Fantasma Deficius Fa che mi ritrovo Altri due borsette E giuro E giuro che Ti trollo Scendo Faccio Farcore Faccio Quello che mi pare Qui perché Il nominato Ah giusto No oh Non mi fate perdere tempo Mi ne manca una 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 Non laggare così Caglioso Arigato Fala H E quella Sabe di qua Ok Ho smesso De laggare Mi rogo Ok Si Oh Sto 11 Me ne manca una Porca Miseria Caglioso Miserietta Giuro Se mi piamò Non mi esploro Vai Via Via Date 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 Lo so Che mi sta dietro Non mi giro Perché mi sta dietro Che è una zoccola Lei È una zoccola Ok Mentre mi tira l'angolino E spera che non entra Spera che non entra Spera che non entra Spera che non entra Ti prego Ti prego Ti prego Ok Trovando un po' di roba Non venire Non venire Non venire Ti prego Non sbattere le palpebre Non venire Non venire Non venire Dai Che non sei venuta Se ne è Andato Se ne è andata Siamo registrando Da 21 minuti Oddio Siamo registrando Da 21 minuti Pensavo Questi episodi Deve stare una cosa A 10 minuti Veloce Perché se è un gioco Flashplay Veloce che ci si aspettano Una cosa abbastanza Veloce E pensavo Molto male Oddio 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 Figo secchiello Bologna Allora Mentre io Di quel che figo secchiello Lei mi cerca Non mi prendere Non mi prendere Ma è così Che faccio Sta scena Non mi se la fai? devo andare di sotto porca troia quella grande troia sei tu quella troia sei una grande zoccola era 11 stavo 11 papà 11 perca troia cioè a 11 stavo a 11 ciao picchietti io vado di sotto allora è tutto allora è tutto e se ne accontro più te lo devi dire fino a un caccio in culo corri 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 non devi dire fino a nessun caccio in culo perchè dovrei tanto simpatica la signora non sei carina ah ma cos'è semina perchè io corro più di lei e allora tu ragazza sei abbastanza lenta eh prego non mi venire la scossa di maronessa a me guarda tutti i sacchetti che sto a vedere devo saltare per forza per colpa sua che mafia è abbiamo un sacchetto ok io ho l'indicatore qua eeeh pisalone pisalone ho l'indicatore che mi dice se lei mi sta per stuprare o mia oh non ti avevo visto vedo andiamo con due sacchetti andiamo 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 forse non ci prende eeeh 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 sai che sei morto? ciao la troiaaa no fancun va bene ragazzi non ci siamo riusciti basta basta l'abbiamo perso l'ennesima volta però va abbastanza bene come cosa cioè non è che va bene però come prima volta può essere che lo rifarò qualche altro episodio del genere mi piace va bene mettiamo un like perchè se così si accontentano sono contenti like su fb add a comment no no tranquillo tranquillo nessun commento ok allora come sempre se non siete iscritti iscrivetevi lasciate un commento un mi piace passate sulla parte facebook se volete consigliarmi i giochi di Fatman e ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi